I mal di pancia dei cuneesi. Cuneo 7 dedica l'apertura alle lamentele di tutti quei cittadini che negli ultimi due anni non hanno nascosto il loro disappunto per alcuni progetti voluti dall'amministrazione Valmaggia non condivisi e per la mancanza di pulizia. E a soffrire di più sono quartieri e frazioni che attraverso i loro comitati sono arrivati al punto di chiedersi se servono ancora qualcosa. Grande risalto viene riservato anche alla politica locale e al ballottaggio che parrebbe profilarsi alle comunali di inizio maggio tra Gigi Garelli il candidato del centro-sinistra e Federico Borgna il candidato dell'area di centro. Considerando le divisioni al suo interno infatti è probabile che non riesca ad arrivare fino in fondo alcun rappresentante del centro-destra. Su Saluzzo oggi attenzione rivolta alla questione multe e al duro attacco rivolto da Elena Lovera al comune. Secondo il capogruppo del centro popolare infatti a causa della tolleranza a zero dei suoi vigili Saluzzo è diventata una barzelletta. E altre critiche giungono dal capogruppo del PDL Fulvio Bacchiorini e dal leghista Domenico Andreis che ai vigili chiede meno multe e più controlli nei weekend. Spazio anche alle amministrative di Bagnolo con il centro-sinistra che ha puntato sull'assessore a sport e turismo Bruno Franco e all'acceso dibattito su Corso Piemonte sorto fra amministrazione, residenti e negozianti. Pace fatta sulla Rocca, così titola Braoggi con riferimento al fatto che nel periodo pasquale il Luna Park non sfratterà, come si pensava, le bancarelle del mercato settimanale. Giostre e mercato quindi si divideranno gli ambiti spazi comuni nel centro cittadino. Spazio infine allo stanziamento comunale di 170.000 euro che permetterà di ampliare e riqualificare il centro di aggregazione giovanile all'interno della scuola media della chiesa di via Brizio.